Ciao ragazzi, oggi questa è una, più che una video lezione, una spiegazione di come poter risolvere il disegno che vi avevo assegnato e siccome ci sono anche dei ragazzi che mi hanno detto che non hanno il materiale per disegnare vi farò vedere come poterlo realizzare con un'applicazione che voi avete disponibile per la G Suite prima cosa fondamentale, dovete essere collegati con l'account JDK Educational fatto questo andate sui nove puntini e andate a cercare SketchUp for School si apre una finestra, attendete un attimo e cliccate su Crea Nuovo scegliete Millimetri, ok, perfetto poi, fatto questo, selezionate con il mouse questo e cancellate, eliminate altro passaggio da effettuare è cliccare su questo simbolo, questo simbolo che sto indicando e cliccate su Proiezioni Parallele bene, ora cliccate su questo simbolo, perfetto ho creato semplicemente un piano, andrò a disegnare su questo piano clicco su Linea e traccio una linea orizzontale e successivamente una linea verticale fatto questo vado a leggere il testo quindi Proiezione ortogonale di una piramide a base pentagonale appoggiata su PO con uno spigolo di base parallelo a PL la distanza è di 2 cm lo spigolo e la piramide misura 6 cm quindi, prima cosa che devo fare non mi interessa la parte sezionata devo semplicemente disegnare una piramide che è appoggiata su PO e ha uno spigolo parallelo a PL la piramide, essendo appoggiata su PO con la vista dall'alto vedrò un pentagono su PO scegliete, quindi, scegliete questo simbolo e all'interno di questo simbolo andate a cliccare su questo poligono vedete qua in basso? c'è scritto 6 voi cliccate scrivete 5 fatto questo date invio e disegnate semplicemente cliccando un pentagono guardate, se cliccate con Shift è la freccia in alto sulla tastiera bloccate gli assi quindi, voi cliccate tranquillamente ok quindi bloccate quest'asse e disegnate un pentagono visto che stiamo facendo un disegno di questo tipo lasciamo perdere le misure non mi interessano quindi, vado a cliccare lascio e ho disegnato un pentagono perché l'ho disegnato in questo modo? ora, seleziono questa parte interna e faccio Cams perché questo spigolo di base che è lo spigolo di base della piramide deve essere parallelo a PL quindi, ricordate, questa è l'asse delle Y questa delle X, Z, Y io sto disegnando un pentagono che ha uno spigolo di base parallelo a PL ok fatto questo, vado a completare la proiezione ortogonale della piramide spigolo con punto medio del lato opposto spigolo con punto medio del lato opposto spigolo con punto medio del lato opposto scusate, non spigolo vertice vertice col punto medio del lato opposto, vertice col punto medio del lato opposto. Vado ad eliminare quello che non mi interessa, questo, 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 questo e questo. Seleziono le parti anche interne. Questa è la vista della piramide su PO. Questo è il vertice della piramide e queste cinque sono le facce laterali della piramide. Queste cose le abbiamo fatte anche prima di iniziare la didattica a distanza, già quando eravamo a lezione. Completo la piramide, porto questo vertice di base sull'asse delle X, stessa cosa per questo, stessa cosa per questo. Ok, ho fatto, quindi ho portato questo punto qui, questi due qui e questi due qui. Perfetto, questi li seleziono e li elimino. Vado a portare il vertice, quindi il vertice da qui, poi da questo punto traccio l'altezza della piramide. Quindi supponiamo che questa sia l'altezza della piramide. Fatto questo, unisco il vertice, la seconda proiezione del vertice, con questo punto, questo punto con questo punto e questo punto con questo punto. Vado ad eliminare le facce che non mi interessano per adesso. Ok, quindi, attenti ad una cosa, questo non è uno spigolo laterale, questa qui è semplicemente l'altezza, quindi la posso anche cancellare. La proiezione su PV è finita. Facciamo la proiezione su PL, questa è semplicemente la proiezione della piramide. Porto questo punto qui, questo lo porto qui, e questo lo porto qui, e questo lo porto qui. Ok, fatto questo, vado a ruotare. Vedete, sto semplicemente disegnando, prendendo questo strumento. Vado a ruotare, ruoto, e lo porto sull'asse delle X, ruoto quest'altro punto, e ruoto quest'altro punto. Benissimo. Fatto questo, vado a cancellare queste superfici che non mi interessano. Ok, poi, quindi, vediamo l'altezza della piramide. L'altezza della piramide è questa, sempre, questo è il vertice, in proiezione. Quindi, unisco questo con questo, ed è questo spigolo qui che ho disegnato. Unisco questo con questo, è uno spigolo che si trova nella parte posteriore. Quindi non vedo. Unisco questo con il vertice, e unisco il vertice con l'ultimo. Quindi, fatto questo, ho disegnato tutti gli spigoli della piramide, gli spigoli laterali della piramide, anche quelli che non vedo. Elimino queste superfici. Ok, la proiezione ortogonale della piramide non sezionata è completa. Continuiamo a leggere il testo. La piramide sarà sezionata con un piano alfa perpendicolare a PV ed inclinato di 30 gradi rispetto a PO. Il piano è perpendicolare a PV, quindi dove voglio traccio la sezione. Attenzione che l'angolo deve essere di 30 gradi. Visto che questo non sto considerando le misure, lo faccio con un'inclinazione a piacere. Quindi, ok, quest'angolo nella realtà dovrà essere 30 gradi. Benissimo. Questa qui è la seconda traccia del piano. La prima è questa qui e la terza traccia è questa. Iniziamo a determinare quelle che sono le diverse sezioni. Qui è molto semplice, su PV è molto semplice. Tutto quello che viene sezionato, che si trova nella parte superiore alla traccia, viene cancellato. Quindi, su PV la sezione è già l'ho determinata. Adesso vado a determinare i diversi punti che corrispondono negli spigoli laterali. Quindi, questo è un punto di sezione. Qual è questo spigolo laterale? Questo spigolo laterale è questo qui. Quindi, da qui a basso, fino a questo punto. Io ho determinato il primo punto della sezione. Quindi, il primo punto della sezione è questo. Aspettate un attimo, completo. Quindi, il primo punto della sezione, come dicevo, vado a zoomare un pochettino per essere più preciso. Quindi, il primo punto della sezione è questo, su PO. Faccio la stessa cosa per gli altri punti. Questo spigolo che vedete, sono questo e questo. Quindi, da qui a basso, clicco con Shift, e vado fino al secondo spigolo di base. Perfetto. La cosa noiosa è che con Scratch vi crea sempre queste superfici, che vado sempre ad eliminare. Ok. Andiamo a controllare quelli che sono i punti che ho determinato. sono questo e questo, questo punto e questo punto, che non sono altro che questi due che si vedono coincidenti su PV. Quindi, ho già uno, due, tre. Devo determinare gli altri due punti. Stesso identico lavoro. Da qui, che è questo spigolo che si intersega con la traccia, vado a determinare, sempre, scendo fino a intersegare gli spigoli corrispondenti su PO. Ok. Elimino queste superfici che crea sempre Scratch. Ok. E ho determinato questo altro punto e questo altro punto. Il gioco è fatto. La sezione su PO è uno. Unisco con questo. Questo lo unisco con questo. Questo lo unisco con questo. E questo lo unisco con questo. Cancello le cose che non mi interessano. Quindi, queste parti qui interne sono tutte cancellate. Perfetto. La sezione è quella che ho determinato qui. Questa parte qua, interna. Cosa vedo su PL? Mi sposto cliccando Shift più il tasto centrale del mouse. Andiamo a vedere. In poche parole, si fa lo stesso tipo di lavoro. Questo spigolo e questo centrale. Questo spigolo qui, intendo, e questo centrale. Che è questo qui che sto segnando su PV. Quindi, da questo punto, riporto una linea fino ad intersecare lo spigolo corrispondente. E ho trovato questo punto. Poi, vado a determinare qual è questo spigolo qui, questo, che sono uno e due. Dove li trovo? Quindi, questo spigolo, questo spigolo e questo spigolo. Quindi, questi due, che sto evidenziando adesso, sono questi. Quindi, da qui, intersego fino a questo punto e fino a questo punto. E ho determinato gli altri due che mi interessa. Uno, due e tre. Ne devo determinare altri due. Vediamo un po'. Questo spigolo è questo e questo. Andiamo a vedere su PL sono questo, questo e quest'altro. Quindi, da qui vado ad intersecare fino allo spigolo corrispondente, che è questo, e poi da qui fino a quest'altro. Ok, qual è la sezione? Uno, due, tre, quattro e cinque. Eliminiamo quello che non mi interessa. Quindi, tutta questa parte superiore. Quindi, questo e questo non lo vedo. E eliminiamo anche queste superfici che Scratch ha individuato. Ok. Il gioco è fatto. Ho completato tutto. La sezione è esattamente... Vado a eliminare le parti che non mi interessano, quella che vedo qui. Questa parte qua su la posso anche cancellare. Quindi, in definitiva, vado a cancellare anche queste parti. Queste parti qui. Eccole. Quindi, che cosa è ciò? La proiezione su PO e questa è la sezione. La proiezione su PV e questa è la sezione. La proiezione su PL e questa è la sezione. Quindi, per determinare gli eventuali... Quindi, queste parti sono tratteggiate. Quindi, le vado a cancellare esattamente. Ok. Posso... Quindi, immaginate che queste siano tratteggiate. Ora le cancello per creare meno confusione. Ok. E vado a mettere le lettere corrispondenti. Con le lettere il gioco è completo. Quindi, questo qui è il punto A' primo. E lo segno. Questo punto si trova qui in basso. A secondo. Questo punto A terzo lo trovo qui. Quindi, vado a identificarlo. Cancello. A terzo. Poi, proseguo con gli altri punti. Punto B. Scusate, devo mettere questo per segnare il punto. B. Primo. Vediamo dove è B secondo, che è qui. B secondo. Eccolo, è questo punto. B terzo, è qua. B terzo. Poi, stesso lavoro per C. Ora non li segnerò tutti i punti. Quindi, C primo, qui. C secondo. C terzo. L'avevo cancellato. C. Poi, D primo. di secondo, di terzo. E primo, E secondo, E terzo. I punti della sezione. Ne segno alcuni. F primo. Quindi, F primo. Vediamo dove è F secondo. Eccolo qui. F secondo. F terzo. Quindi, F. Corrisponde con questo. Segniamo. F terzo. Eccolo qui. Ne segno un altro. G. G primo. Dove è G secondo? Eccolo qui. G secondo. Andiamo a determinare G terzo. Ecco qui. G terzo. E poi, vado anche a determinare gli altri punti. Ok. Proiezione ortogonale completa. Naturalmente, mancano i colori. Quindi, questa faccia, se io la dovessi disegnare, quindi, questa faccia qui, ok, questa, supponiamo che sia di colore rosso, la faccia corrispondente di colore rosso sarà questa. Vado a colorare la corrispondente faccia, sempre di rosso. Una, due, tre e quattro. E su P, su PL, la proiezione ortogonale, quindi, la faccia corrispondente colorata di rosso sarà questa. E poi, verde, verde, giallo. Giallo. Questa qui, tratteggiata. Per coloro che la disegnano con scratch, non resta altro che salvare. Una volta che tutto è completo, salva. Date il titolo. Piramide sezionata. 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 Piramide. Date ok. Scegliete adesso una cartella. Io ho creato progetti SketchUp. Faccio select. Ah. Devo cambiare il nome perché già ne ho uno. Piramide sezionata. Uno. E clicco su ok. Adesso. Quindi, select. Perfetto. La piramide è stata sezionata. Per consegnare il file, andate su queste. Scusate. Per sezionare il file, andate su questo, operazioni, e fate esporta. PNG. Vedete, avete già l'immagine. Fate esporta con PNG. Continua. Vi chiede. Automaticamente ha salvato il vostro PNG. Andiamo ad aprirlo. Vi mostro che cosa compare. Questo qui sarà il compito che voi potrete allegare al file del vostro, del compito che vi ho assegnato su, su Classroom. Ok. Grazie a tutti.